Il nostro macho della macho organization non passa inosservato. Tempo fa mi disse, Marco festeggio i miei primi 60 anni di vita, lo farò come nel mio stile, sei invitato. Il 27 dicembre 2021 di Marco Raboni per TC100 Web2. E così è stato, amici. Massimo Cremonini, da tutti conosciuti con il soprannome di Macho, ha stupito ancora. Infatti non taglia la torta, ma sale in sella e taglia il traguardo in piazza Guercino a Cento, dopo una bicicletta organizzata proprio dal Macho, partita come si evince dal volantino del centro mountain bike di San Matteo della Decima, percorrendo un tragetto immerso nella nostra campagna, raccogliendo durante il percorso di avvicinamento a piazza del Guercino tanti amici e lì è tutto organizzato a puntino, con un arrivo gioioso e pieno d'affetto per Macho. Vediamo. Sì, siamo arrivati uno. Dai, bravi, bravi. Grandi. Dai, fermati qua. Macho, Macho, Macho. No, sono arrivato. Sei arrivato. Venti e ventiquattro. 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 Per quale adoro è questo bel giro in bicicletta per le vie? Per i sessant'anni del Macho. Grande. E il Macho festeggia i suoi anni. E non sentirli. Esatto, il Macho festeggia i suoi anni, sembra di modo diverso, vero? Sì. Grande. Quest'anno ho fatto una pedalata, ringrazio Lavi, ringrazio i miei amici che mi hanno dato una mano e poi dopo... E dove sono i tuoi amici? Qua, qua. Qua i miei amici. Gli amici di Macho. Silvia. Qua dove sono gli amici del Macho? Anna. Anne. Dove sono gli amici del Macho? Silvia, Anna. Sonia. Sonia. Gli amici del Macho qua. Gli amici del Macho, Anna, Giacomo. Oh, festeggi i suoi sessant'anni e non sentirli. Sessant'anni e non sentirli. Oh, bello, bello, Macho. Ah, ma che è arrivato i tuoi amici. Vedi che il richiamo? Tacchi, arrivano i suoi amici, i grandi. Vado a prendere la bici? Beh, sì, facciamo una bella immagine con due o tre bici. E poi abbiamo già festeggiato anche gli anni sessant'anni del Macho. È, Macho? Comunque le cose diverse, il Macho inventa sempre, professore. Inventa sempre qualcosa di... Siamo pronti a fare delle iniziazioni stupende. Stupende, è vero, è vero. L'anno scorso è venuto con me, fu l'olio, era un divertimento. È infatti, infatti. E vederlo e vederlo. Bene, bene. E si davano con noi. Bene, allora un'altra volta sotto il traguardo, Macho, e poi dopo... Maggio via. Poi dopo ci salutiamo, grande. Vai, via, via. Grande, via, via, via. 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 Grazie a tutti